Ho avuto il piacere e l'onore da parte della regista di avermi fatto partecipare di tutte le scelte, di tutte le scelte, dei passaggi, anche proprio in sceneggiatura. Mi chiedeva, secondo te, qui in questo punto, cosa facciamo? Eramo totalmente un team, proprio lavoravamo insieme. Poi Merina ha un modo di, diciamo, di sviscerare proprio la sceneggiatura, tutto suo. Lei ha i suoi famosi quadernini, ha questi quaderni che riempie, adesso svelo un po' l'intimità professionale di Marina Spada, perché per ogni scena, diciamo, fa proprio una ricerca visiva tra quadri, tra autori, ritaglia delle figure, dell'ispirazione, scrive qual è il momento del personaggio, che cosa è, secondo lei, quel momento emotivo. Insomma, c'è tutta una ricerca molto, così, molto accurata, molto approfondita. Abbiamo fatto questo cammino insieme, abbiamo imparato a conoscerci, lei veniva spesso a casa mia, abbiamo letto tante volte insieme la prima sceneggiatura, poi ci siamo distaccate per un bel periodo, e appunto ci scrivevano continuamente mail, ci venivano dubbi, e poi sul set è stato bellissimo, perché io, cosa che non mi è mai successa, che un regista venisse proprio a chiedermi anche, secondo me, alcune cose del libro, anche se lei le sue idee ce le aveva molto chiare, però, l'inquadratura, quest'amore maniacale per l'inquadratura, per, proprio come finestra emotiva di quello che stai raccontando al pubblico in quel momento, con tutta questa, una Milano, appunto, che quasi, anche, abbiamo detto, che è quasi proprio un personaggio del film, una città, appunto, così, un luogo quasi dell'anima, no, diventa, e è stato bello, è stato, io ho imparato tanto, nonostante tanti film, ma io invece che questo ho imparato tantissime cose, e poi, appunto, la ringrazio appunto di avermi dato la possibilità di fare un personaggio così a tutto tondo, così ampio, proprio, Monica è, manager, figlia, madre, una madre che forse non è ancora, ma che in futuro potrà essere, quindi, ci sono tante sfumature che sono stata messa in grado di poter, così, di poter raccontare, quindi, è stata, insomma, segna, proprio, quasi, forse, anche un mio momento di svolta, di cambiamento.